Per svaliggiare una banca ha pensato bene di noleggiare un'auto, per la precisione una Fiat Croma, a bordo della quale, in compagnia di un complice, il 4 luglio scorso si è recato a Carsoli, in provincia dell'Aquila, in Abruzzo. Evidentemente era molto sicuro di sé e infatti, quando ha parcheggiato la macchina, si è diretto verso la filiale della Tercas, ha volto scoperto, mascherandosi con una calza da donna soltanto pochi istanti prima di entrare. Ma a tanta sicurezza lo ha tradito. Vincenzo De Palma, questo è il suo nome, pregiudicato di Cerignola di 24 anni, è stato arrestato dai carabinieri. La rapina l'ha portata a segno, 9.615 euro presi dalla cassa dopo aver affrontato l'impiegato, stringendogli il collo fra le mani. Ma quando è fuggito, insieme al complice, qualcuno ha notato i movimenti e ha memorizzato il numero di targa dell'auto. I carabinieri allora hanno accertato che si trattava di una vettura noleggiata ed è stato facile a quel punto risalire al noleggiatore. A Cerignola i carabinieri, nei pressi della sua abitazione, hanno incontrato la convivente. Aveva banconote risultate asportate proprio durante la rapina a Carsoli. Lui non c'era, ma è stato rintracciato in strada qualche giorno dopo. Adesso è in carcere, deve rispondere di rapina in concorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.